E' stato dichiarato agibile il municipio di Camerota, interessato giovedì pomeriggio da un vasto incendio che ha completamente distrutto l'aula consigliare. L'ok all'utilizzo è arrivato dopo i rilievi effettuati dai periti dei vigili del fuoco. Dunque, dopo la bonifica, le attività potranno riprendere il loro regolare corso. Restano sotto sequestro invece i locali posti al pian terreno dello stabile, quelli dove è stata individuata l'origine dello spaventoso rogo e che poteva generare conseguenze ben più gravi se solo alcuni dipendenti non avessero fatto scattare l'allarme. Le indagini sull'increscioso episodio portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sapri diretti dal capitano Emanuele Tamori proseguono a ritmo serrato e, secondo indiscrezioni, sarebbe stata quasi del tutto esclusa l'origine delosa. Sembrerebbe infatti che le fiamme siano state innescate non dalla mano dell'uomo ma da un cortocircuito ad una cabina server, circostanza che avrebbe già permesso di rilevare l'ineguatezza dell'impianto elettrico che sarebbe stato realizzato senza tener conto della normativa vigente e per questo potrebbero esserci delle precise responsabilità. Le fiamme sarebbero partite intorno alle 18 di giovedì, poco dopo la chiusura degli uffici comunali, avvolgendo dapprima alcuni arredi, poi, in pochi minuti, l'intera sala consigliare, distruggendola completamente. Il fuoco ha infatti divorato i tavoli dei consiglieri, le sedie del pubblico, computer, fascicoli vari e l'intera biblioteca comunale. È stato in parte danneggiato anche l'archivio comunale, ma le forze dell'ordine, prima che le fiamme prendessero il sopravvento, sono riuscite a portare via quasi tutti i faldoni, anche quelli che riguardano scottanti vicende giudiziarie.